Allora, oggi niente video tecnici perché sempre mal di gola che non mi lascia, però approfitto per fare un video molto veloce per rispondere alla domanda di un ragazzo che mi ha mandato un'email chiedendomi un consiglio. Ha un box all'interno del quale suona la batteria e vuole un pochino insonorizzare da dentro verso fuori, quindi per l'esterno, senza fare operazioni troppo complicate, troppo invasive. E ovviamente mi ha linkato qualche video dove ci sono delle persone che fanno vedere come si appendono i piramidari al muro, come si creano questi pannelli rettangolari fonoassorbenti, eccetera. Vista la domanda mi sono reso conto, e non è la prima volta che mi succede, che c'è un po' di confusione quando si tratta di insonorizzazione, materiali, eccetera. Quindi faccio questo video e poi magari ne faccio uno di seguito un po' più approfondito per spiegare qual è una differenza molto importante. Insonorizzare vuol dire che tu, da dentro la stanza, impedisci al suono di uscire verso fuori, mentre questi pannelli che si costruiscono, insomma, per appendere il muro, eccetera, servono per il trattamento interno dell'acustica interna di una sala, perché magari quando tu suoni dentro la sala c'è un reverbero fortissimo e ti dà fastidio, ok? Si suona male anche con gli altri strumenti, eccetera. Però attenzione, c'è una via di mezzo che forse, nell'occasione, insomma, per le esigenze di questo ragazzo, potrebbe essere una cosa fattibile. Se tu prendi teri da teatro, ok? Le tende, quelle insonorizzanti che sono delle tende spesse, oppure tappezi completamente tutte le superfici che hai, tutti soffitto, pavimento, muri, eccetera, eccetera, di materiale piramidale fonoassorbente, la stanza non diventa più una vera e propria cassa di risonanza, ok? E per questo motivo, allora, diciamo, questa cosa ti, come ti posso dire, ti insonorizza un pochino per fuori, quindi fuori si sente un po' di meno, a patto che tu renda anche, diciamo, abbastanza impermeabile la porta, perché dalla porta esce il 90% del suono. Quindi, volendo fare proprio un'operazione, diciamo, di fonoassorbenza massiva, se tu tappezi completamente, soffitto, per terra ci metti dei tappeti spessi e alle pareti, pure tutto piramidale, fonoassorbente, la stanza all'interno non rimbomba più, non ha più un reverbero, diciamo così, non è più una cassa di risonanza. E quindi il suono esce un po' di meno anche fuori, ma sempre poca roba, ok? Quindi, se si tratta di mettere qualche pannello al muro per fare un trattamento acustico, per migliorare l'acustica interna, quello assolutamente non impedisce al suono di uscire, se la stanza non è insonorizzata. Diversamente, se tu fai un trattamento di fonoassorbenza interno pazzesco, cioè proprio tappezi e tutto quanto di piramidali, un pochino, un pochino impedisci anche al suono di uscire perché la stanza non è più una cassa di risonanza, ok? Basta, non ce la faccio più a parlare, fa troppo male la gola, nei prossimi giorni magari faccio un video più dettagliato dove do delle informazioni più chiare, però almeno do una risposta a questo ragazzo che mi ha scritto una mail e mi faceva piacere rispondere il prima possibile. Ok? Se avete altre domande sull'argomento scrivetele pure nei commenti e ci vediamo alla prossima. Bella!